Antonio rientra, uccide tutti, dovrà mandare in super spremuta, cedro anche! Super spremuta! Ma guarda super spremuta, chi deve affrontare indagare il bravo è lui! Non c'è il bravo è lui! Non c'è il bravo è lui! Ma che cazzo va? Uno! Ma se mi hai buttato fuori, potremmo farlo! Uno di Simo! Parte una parattia, parte un'altra parattia di Ulli credo! Simo Muro contro Ulli! Cosa accade? E' morto Simo nel dritto! E' persa da due capelli davanti! Disastro! Vabbè quindi io sono venuto, io sono venuto solo per partecipare stasera ovunque. Cominciamo! E' via 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 via! Oh oh oh! Oh che piantame! Ma che? Vai via 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 Leader, è stato leader McBeck, oh? Ho capito Big Mac Big Shake Oh! Alla Bomber Mods anche Bikers Grazie a Jesus Bikers sotto pressione I due piloti Campioni del Constructor Side by Side I due MTV I due MTV Costretto ad alzare il piede MC Oddio, oddio, oddio Mamma mia Ok, concentrazione E' vero Oh! Ma che hanno questa MP? Eh? E' bello la cosa Strana Oh! Michael sin penalità Attenzione! Michael sin penalità Attenzione! Proppone MC Proppone MC Parrocale! Problema! Rientro Botto Fremendo! Incredibile! E' morto Fremendo! Nello sbacchetto della televisione Abbiamo visto dei cataferi! Ma che cos'era quell'immagine lì? Ma che cos'era? Oh! 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 Qua si fanno fuori l'MB! Scappa via MC che ringrazia! E attenzione! LIMOLATI! I LIMOLATI! I LIMOLATI risorgono! 1,15 per MC FUNCIONE! Attenzione a CARROZ! Che ha messo nel Merino ULLI! quindi vischia la medaglia di carta attenzione si 1-14-6 MC funzione Carrots no Iceman di 79 millesimi Iceman di 79 millesimi chiude in tour place da scontante no via 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 non sono male di piantami entro oh contatto Iceman by gas oh oh botta tremenda MC da parte di Ghost oddio oh morti oh c'è un canavere urli lungone di qualcuno qua a sinistra oh Bikers si traversa in curva James ma che è successo ma che è successo mi hanno spaccato la macchina va dentro MC su Bikers ragazzi ragazzi ho dovuto frenare c'era Bikers sulla moletina non potevo fare altro se no lo tamponavo io attenzione Iceman è già in battaglia totale è psico la macchina spaccata ma dove stanno andando quelli qua in pit lane Iceman in salvo botte da Orbi il termometro è esploso che difesa di Ice incredibile Ice ben ai limiti del regolamento incredibile sta rimontando è un sito danneggiato no no io ho tutta la macchina rotta l'arancione tutta la macchina no no il muso no il muso no eh ho la macchina rotta mi è arrivato un siluro nel culo mi ha sfondato tutto oh dove va in curva Calloni incredibile sarpasso di salvo in curva Calloni mai visto vediamo adesso se salvo riesce a difendersi Iceman è tosto anche ad attaccare fatto il salvo non scappa via attenzione è leader è leader salvo si propone Ice vediamo attenzione si non ha il passo ma Fuchs però 1'49 ma come è possibile Iceman è stato contatto contatto doppio ne approfitta in psiche va dentro aah condoraggine lungo di Ice la Grazie a tutti. 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 Oh, che padre. Oh, dove va sto pazzo? Oh, ma dove va Salvo? Oh, il tampona tutti! E l'MC passa dall'esterno! Ma hai visto! Dentro al tamaccaio! Oh, è andato dritto! Oh, è andato... 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 Ma che chiara è, ma che chiara è Anche Carrox è morto Cioè Nel senso Non ho fatto un sorpasso Con una persona Proprio Senza che loro si facessero fuori